E' stabilito dall'individualità. Chi stabilisce il momento della morte? Commento. Il momento del trapasso non è soggetto a variante, perché è stabilito dall'individualità e non dall'individuo. L'individualità è le varie menti, le varie personalità, i vari io, che ognuno assume nelle varie incarnazioni come individuo. L'individualità è la porzione di piano di esistenza Aleph che è in noi, il Sé, la scintilla divina, la goccia divina.